Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. In questo video volevo comunicarvi una cosetta che diciamo che io in questi giorni non posterò molti video scratch in questa lunedì, martedì, mercoledì e... no, scusate, sto andando il tweet scusate che qua ci sono... scusate il cosetto, ovviamente c'è Luisa che è in sella a Zeus che salta in un bello stacolo poi c'è un largo con Beatrice che salta con Artax e vabbè, la notizia era che non pubblicherò molti video venerdì, sabato e domenica perché parto per andare in un posto che sarebbe la Bruzza e... vabbè forse qualche video ce la farò a farlo, non lo so oddio, scusatemi e vabbè ciao e al prossimo video ciao! ciao!